non mi piace prestare le mie cose agli altri il signor Wheeler è stato così crudele con me io gli ho chiesto solamente se mi poteva prestare il martello che cattivo chiedergli in prestito qualcosa sembra la cosa peggiore al mondo e questo non è niente non mi ha lasciato neanche prendere una vecchia gomma che avrebbe buttato non ci ha lasciato finire il nostro lavoro è così egoista e cattivo sì, hai ragione cosa avete detto? signor Wheeler si può sapere perché mi state insultando in questo modo? che c'è di male se non voglio prestare agli altri le mie cose? credo che il signor Wheeler si sia arrabbiato andiamo via che cos'è? oh no, è una tegola del tetto a quanto pare lo dovrò sistemare oh caspiterina dovrò prendere in prestito una scala per salire sul tetto dove potrei prenderla? lo userò oggi, domani e così via lo userò per tutta la vita, capito? che c'è di male se non voglio prestare agli altri le mie cose? oh cielo magari non mi sarei dovuto arrabbiare così tanto adesso ci penso io ah eccola lì qualsiasi è più alto di quanto pensassi fa attenzione Wheeler il mio marzello e questo da dove viene? è del signor Wheeler com'è arrivato qui? aiutatemi! signor Wheeler! non riesco a muovermi Eh! Cleanie, aiutami! Sto per cadere nel comignolo! Che cosa posso fare? Tenga duro! Chiamo subito la squadra di soccorso! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! E ora stia attento! Grazie! Nessun problema! Roy, apri la piattaforma! Noi siamo pronti! D'accordo! Ora deve camminare lentamente verso la piattaforma D'accordo È peggio se guarda in basso Guardi sempre dritto Se lo dici tu Ben fatto Siamo pronti, Roy D'accordo, inizio a far scendere la scala Non ci vorrà ancora molto Ci siamo quasi Sono felice che stia bene, signor Wheeler Anch'io Mi scusi, perché si è arrampicato nel comignolo? Tanto per cominciare Ecco, dovevo salire sul tetto per ripararlo Ma non avevo una scala E non potevo prenderla in prestito da nessuno Che potevo fare? Signor Wheeler E voi tre che ci fate qui? Abbiamo saputo che ha avuto un incidente Ed eravamo preoccupati per lei Speriamo che non si sia ferito Grazie al cielo sto bene Grazie, siete tutti così gentili Sono stato davvero molto egoista e cattivo Mi dispiace molto per come mi sono comportato Non si preoccupi Siamo felici di vedere che è sano e salvo Grazie a tutti Grazie a tutti